IET, Technology for the Human Being. Lo sviluppo di tecnologie per l'essere umano è il nostro orizzonte. Indaghiamo i meccanismi della natura che l'evoluzione ha selezionato nel corso dei millenni. Le nostre tecnologie imitano ciò che l'evoluzione ha già ottimizzato e adattato in modo da coniugare efficienza e sostenibilità. Un nuovo paradigma tecnologico bio-ispirato e bio-mimetico. Così facendo, mettiamo un nuovo sapere al servizio dell'umanità. L'approccio di IET nasce dal talento e dall'interdisciplinarietà delle scienze attraverso una forte interconnessione dei saperi. La reciproca contaminazione delle discipline produce progresso e innovazione e facilita il trasferimento delle tecnologie verso la società per costruire il nostro futuro. Sviluppiamo nuovi materiali intelligenti e biocompatibili, sfruttando le proprietà della materia e le potenzialità dell'essere vivente. Realizziamo le basi per nuove sostanze, oggetti e macchine soprattutto nel campo della salute e della vita quotidiana. Per questo studiamo anche sorgenti di energia portatili, leggere ed efficienti, integrabili e adattabili ad una molteplicità di sistemi. Creiamo sistemi intelligenti, imitando il funzionamento del cervello, per dotare anche le macchine di facoltà cognitive, in grado di svolgere operazioni sempre più complesse e di connettere macchine con altre macchine e con gli esseri viventi. L'approfondimento della conoscenza del cervello e dei processi cognitivi sta aprendo la strada ad una nuova era dell'intelligenza artificiale. I nostri robot imitano i processi di apprendimento umani per interagire con l'ambiente e migliorare la nostra vita. Si sostituiscono a noi nello svolgimento di lavori pericolosi, ci assistono nel quotidiano, trovando applicazioni anche in ambito medico e riabilitativo. Il nostro modello di ricerca ci consente di produrre innovazione, seguendo l'intero progetto dalla fase di studio a quello dell'ingegnerizzazione. Lavoriamo a stretto contatto con il tessuto produttivo. Offriamo soluzioni adatte a soddisfare nuovi bisogni. Creiamo nuove realtà produttive con nascita di aziende spin-off e start-up. Il nostro progetto scientifico guarda al futuro dell'uomo e del pianeta. Le nostre tecnologie costruiscono il nostro domani. EET. Technology with a human touch. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.